L'abbiamo recuperata pienamente, cosa che è molto importante per un falco pellegrino, in quanto è l'animale più veloce che abbiamo sul nostro pianeta, raggiunge quasi 400 km orari, in picchiata. Dalle terrazze del Parco Virgiliano, questa mattina è tornata in libertà Giulia, il giovane Falco Pellegrino, salvato e curato dai medici veterinari del Centro Recupero Animali Selvatici. Guarito e rimesso in forze, l'agilissimo rapace si è sollevato in volo sulle falesie del mare di Bagnoli. Molti animali selvatici, soprattutto uccelli, abbiamo visto nel corso degli ultimi decenni, si sono avvicinati ai centri urbani, quindi alle aree antropizzate, perché sfruttano sia gli edifici per la nidificazione, un caso emblematico è quello del columbo ormai arcinoto, ma anche del gabbiano areale, creando non pochi problemi anche di convivenza con la popolazione, e anche il falco pellegrino, che da diversi anni, come dicevo, a Napoli, presso il Centro Direzionale, nidifica. Agli inizi di agosto l'uccello era stato ritrovato nella zona del Centro Direzionale con un trauma ad un'ala, forse a seguito di un combattimento con un gabbiano reale. Le specie animali che vivono nei contesti urbani si ritrovano a volte a lottare per la conquista del cibo e per la sopravvivenza. Quest'anno è stato particolarmente intenso, perché con il piano di monitoraggio di prevenzione antincendi della protezione civile, spesso abbiamo individuato dei punti dove c'erano degli animali, c'è una biodiversità a Napoli molto bella da riscoprire e valorizzare, quindi ci siamo messi in contatto con l'ASLA, il settore veterinario, con i dottori che sono straordinari, il Centro di Recupero Fauna Selvatica. Quindi questa sinergia, protezione civile, la salvaguardia dell'ambiente e l'ASLA che ha un centro di recupero ci ha permesso anche di liberare la bellissima Giulia, insomma non è il primo degli animali che viene recuperato, anzi in questi giorni si stanno recuperando anche altri animali, soprattutto quelli che poi vengono abbandonati perché si fanno delle scelte, si comprano animali esogici e c'è sbagliato, bisogna rispettare la natura dell'animale, l'ambiente in cui lo si porta, insomma la scelta di un animale di compagnia è sempre ponderato, ma soprattutto bisogna mettere mano per davvero, ognuno di noi come so che sappiamo fare, mettere mano all'ambiente e alla salvaguardia del creato che è un tema sempre ormai all'attenzione di tutti quanti noi, anche e soprattutto per quelli che sono i cambiamenti climatici, piccoli gesti, piccole cose che si possono fare ma che hanno un grande valore e una grande importanza per un delicato ecosistema. Grazie Grazie Grazie